La norma per assicurare le royalties dei progetti estrattivi ai comuni costieri fa passi avanti all'Ars. Ieri è stata approvata in commissione bilancio con un tendenziale accordo bipartisan. C'è il sì anche ad una prima modifica. La quota del 30% destinata ai comuni sarà annualmente fissa. Non sarà necessario un pronunciamento del governo regionale. L'apertura alla proposta è arrivata direttamente dai ranghi della Giunta. C'era già stato un sì dell'assessore all'economia Marco Falcone. La disciplina inciderà già dal prossimo anno sui comuni di Gela, Licata e Butera direttamente toccati dall'investimento Argo Cassiopea. Per il parlamentare di Forza Italia Michele Mancuso il governo Schifani ha mantenuto un impegno fondamentale per le città di Gela, Butera e Licata. Il prezzo pagato in tanti anni di disagio per la salute dei cittadini secondo Mancuso finalmente trova un segnale di vicinanza delle istituzioni politiche e un primo passo ribadisce il parlamentare di Forza Italia e si dice certo che il Parlamento tutto saprà in aula apprezzare questa scelta verso un giusto e meritato riconoscimento. Si è mostrato favorevole alle modifiche e alla norma predisposta anche attraverso il voto della Commissione il parlamentare di Fratelli Italia Giuseppe Catania. Le opposizioni invece con Movimento 5 Stelle e PD in primis hanno sostenuto la norma e le modifiche migliorative. I nostri emendamenti sono stati accolti ha detto il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola che ha anche sottolineato l'incidenza delle somme che verranno incassate dai comuni. Non è da escludere che nel corso del dibattito parlamentare si possa tentare di intervenire con ulteriori aggiustamenti soprattutto le opposizioni mirano ad una quota maggiore rispetto al 30 per cento e ad un riparto sulla base del numero di residenti nei comuni costieri. Il sindaco Lucio Greco a sua volta aveva indicato la necessità di una quota fissa come disposto in Commissione Bilancio. Le somme dirette ai comuni in base alla disciplina dovranno essere destinate per una soglia non inferiore al 50 per cento a spese di investimento. Greco inoltre ha ribadito la necessità di seguire il modello Basilicata. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.